Operazione sorpasso e questo l'imperativo del centro-sinistra in vista dell'elezione di domenica prossima ed è proprio il candidato presidente Pippo Calli può provare a sovvertire i sondaggi che davano avanti il centro-destra e lo fa a Bisignano, centro in provincia di Cosenza, dove ha incontrato i suoi elettori. La mia percezione è che vedo la gente entusiasta quando sente queste parole di rivoluzione, di amore verso la Calabria è entusiasta di questo, è gente anche non della coalizione, non gente di, quindi veramente questo mi incoraggia. Poi il sorpasso, non il sorpasso, questo lo vedremo il 26 o il 27 mattina. Tanti i temi trattati ed in un territorio vuoto dall'agricoltura non si poteva non parlare del comparto. Dalle considerazioni che mi hanno fatto i vari esponenti delle associazioni che rappresentano gli agricoltori mi sembra di essere non dico all'anno zero ma quasi, cioè hanno bisogno di tutto, hanno bisogno veramente di un rilancio ma hanno bisogno soprattutto ancora di avere considerazione, di essere considerati, di sentirli, di ascoltarli e vedere con loro quelle che sono le problematiche. A loro è mancato questo, è mancato l'ascolto e per me invece è il mio hobby quello di ascoltare le persone e insieme trovare delle soluzioni che siano le migliori possibili per il settore.